Ciao Riccardo! Ti confermo che la nostra azienda è una multinazionale tedesca, leader di mercato mondiale nella produzione di infissi in alluminio. In Germania abbiamo un centro di ricerca e sviluppo che progetta e testa tutte le soluzioni per porte, finestre e facciate in alluminio. Sciuco Italia è la filiale italiana della nostra azienda e coordina l'attività di oltre 400 partner seramentisti su tutto il territorio nazionale. Sono loro a produrre e installare le tue finestre, utilizzando solo ed esclusivamente prodotti a marchio Sciuco. Per vendere e installare i nostri sistemi, i seramentisti devono frequentare corsi di formazione, dotare le loro officine dei macchinari utili alla lavorazione dell'alluminio e assemblare i sistemi con componenti 100% Sciuco. Ci chiedevi dove poter vedere i nostri infissi. I seramentisti premium partner Sciuco sono dotati di una showroom dove potrai toccare con mano diverse finiture e accessori. Così potrai scegliere veramente gli infissi di casa come vorrai tu. Possiamo affermare quindi che le finestre in alluminio Sciuco sono prodotte in Italia. L'alluminio viene estruso nel nostro paese e i seramentisti Sciuco sono al tuo fianco nella scelta e nella posa in opera, rispondendo in ogni momento del nostro prodotto e del servizio. In poche parole Sciuco coniuga perfettamente l'affidabilità e l'esperienza tedesca con la capacità manifatturiera italiana che si esprime attraverso il design, la qualità e la flessibilità. Se vuoi vedere con i tuoi occhi e testare di persona i nostri prodotti, visita uno showroom di un nostro partner sul territorio. Scoprirai che siamo tedeschi di nome, ma italiani di fatto.